Dopo una lunga fase caratterizzata da condizioni di stabilità con temperature abbondantemente al di sopra della media stagionale, la nostra regione è stata interessata dal passaggio di un fronte perturbato proveniente dal nord Europa, il quale, nelle ultime 24 ore, ha determinato una sensibile diminuzione delle temperature con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio. Attualmente siamo interessati da un relativo campo di alta pressione, il quale convoglia correnti fresche dai quadranti nord-orientali. Tra sabato e domenica l'affondo sul Mediterraneo occidentale di una depressione di origine nord-atlantica determinerà un richiamo di correnti meridionali con temperature che subiranno un lieve aumento, correnti meridionali che precederanno l'arrivo di un nuovo peggioramento, atteso nel corso della giornata di domenica ad iniziare dai settori nord-occidentali della nostra regione. Per sabato 21 settembre condizioni di cielo sereno ovunque per l'intera giornata, temperature lieve aumento nei valori massimi, venti in attuazione da est con tendenza a disporsi da sud-est, mare poco mosso. Per domenica 22 settembre invece il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con maggiore copertura sul settore terrenico centro-settentrionale dove tra il pomeriggio sera non si escludono locali piovaschi, temperature in ulteriore lieve aumento segnatamente nei valori minimi della notte, venti da deboli moderati meridionali, mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in ulteriore aumento nel corso del pomeriggio sera. Per lunedì 23 settembre la campagna potrebbe essere maggiormente esposta al flusso di correnti umide da sud-ovest, pertanto è atteso un peggioramento più diffuso con una maggiore estensione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori normali per il periodo. Da martedì 24 la situazione tenderà rapidamente a migliorare, ma per maggiori dettagli è possibile seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito internet www.meteosette.it.